In questo momento stiamo facendo un flash mob per la ciclabilità, non perché come Fridays ci occupiamo solo di ciclabile, di bici, ma perché è un simbolo di quanto il nostro rapporto con noi stessi, con la natura in realtà, soprattutto nelle città che sono il simbolo di voli che racchiudono gran parte delle missioni che i cittadini e le industrie anche producono. Siamo finalmente in più di 200 da tutta Italia qui da Fridays for Future, qui a Bari, era un modo per far sentire la voce di tutti e di tutte, proprio qui nella nostra città dove le piste ciclabili mancano in una maniera veramente vergognosa. Hola, hola!